Rai 3 al quadrato, uguale 9, vi invita calorosamente alla visione e all'ascolto di questo programma. Addio! Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di grande orgoglio, di responsabilità e immenso piacere. Tolto forse qualche passaggio immensa, che comunque ringrazio per aver ravvivato più di una notte insonne. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamato. Grazie, grazie a tutti i dirigenti che ho incontrato negli anni, circa 18.000, a volte ne cambiavano 7-8 in un paio d'ore, che hanno riposto in me fiducia, scambiandomi evidentemente per Mara Venier. Non è stata per me una scelta facile, anche in considerazione degli sforzi importanti fatti dalla Rai per trattenermi. Pensate, stavano addirittura per darmi il badge fisso. E voglio sottolineare che non ho mai fatto nulla per favorire i miei parenti. Vabbè, a parte quella volta con mia cugina Ophelia, però voglio dire una messa in piega gratis, secondo me ogni tanto ci può stare. Non ho mai fatto nulla per escludere i miei passati collaboratori. E non mi pare, devo dire, che far lapidare la mia truccatrice, perché mi ha sbagliato l'eyeliner, sia poi una cosa così sbagliata. Questo è il mio stile. Un grazie speciale va alle maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito di questa azienda. Avermi dato fuoco alla macchina perché finiamo sempre tardissimo, io l'ho considerato un gesto di grandissimo affetto. I programmi che ho avuto la possibilità di realizzare, Sanremo escluso, appartengono al pubblico, ma rappresentano per me un pezzo di cuore, di vita e di cucina componibile col frigo pieno. Sono entrata nelle case di milioni di telespettatori, vabbè milioni, facciamo centinaia di migliaia, alcune persone. E ho provato a ripagare il grande, grande affetto, l'apprezzamento ricevuto con il lavoro, la professionalità, il rispetto, la libertà e la sopportazione del professor Maggi. Ho dato tutta me stessa. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Da questa sera conduco parlando in alfabeto farfallino. Non lo so neanche fare. Sarà il nuovo progetto questo.